buonasera pensavo pensavo prima al fatto che tante volte ci lamentiamo di come vanno le cose e ci lamentiamo della scuola per i nostri figli ci lamentiamo del fatto che forse ci vogliono vaccinare ci lamentiamo del governo lì c'è quella famosa quella famosa frase poi piove governo ladro li votiamo noi governo ladro cosa sentire dire quelli del governo la scuola non va bene perché non ne costruiamo una privata come fanno i ricchi i ricchi mandano i loro figli alla scuola privata perché non le mandano alla scuola pubblica c'è una motivazione allora facciamo anche noi delle scuole private per i bambini poveri tu parli io non parlo chi ci governa indipendentemente da chi va a governare indipendentemente dalle elezioni perché se le elezioni fossero così importanti non ce le farebbero fare qualcuno ha detto e scritto no anche perché chi va a votare il votante non è preparato ho già detto più volte chiedete andate in giro per la strada con la mascherina mi raccomando e chiedete alle persone che cos'è l'Euribor chiedete alle persone che cos'è un'agenzia di rating e quali sono i criteri secondo i quali in un minuto distruggono una nazione oggi l'italia è meno 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 e lì miliardi che che le aziende perdono con la borsa la borsa non la felicità la borsa non la felicità i mercati non la felicità il il paradosso del il paradosso della della digitalizzazione a tutti i costi anche se ritengo che la digitalizzazione se usata bene farebbe risparmiare agli italiani almeno la metà della della spesa pubblica che va a creare poi debito pubblico perché abbiamo una spesa pubblica annua di 800 miliardi 800 miliardi di euro costa il carrozzone italia calcolando che le infrastrutture che sono state create cioè gli ospedali i nuovi ospedali e tutto quello che riguarda il pubblico pubblico ma perché dice queste cose perché parli di questo a che serve parlare di questo serve serve a a mettere in condizione le persone di pensare perché se tu continui è come se tu avessi il tetto che che entra acqua se tu continui a a fregartene va a finire che poi l'acqua ti entra in casa vi faccio un altro esempio se tu continui a a bere o a fumare nonostante sia assodato quindi nonostante sia vero che bere troppo fa male che fumare fa male che mangiare cibo inquinato fa male che bere l'acqua inquinata fa male ma tu continui a bere se noi abbiamo sempre bevuta la cosa più importante che noi abbiamo è la vita la vita è la salute se noi perdiamo la salute perdiamo la perdiamo la quindi continuate a disinteressarvi e continuate a a dire sì ma tanto rubano tutti sì ma tanto sono tutti uguali sì ma tanto no sì ma tanto con la vita ma tanto è la tua tu hai una vita e se noi continuiamo a disinteressarci qualcuno come stanno già facendo si approprierà della tua esistenza perché perché queste persone vivono sfruttando gli altri come facendo sì che gli altri abbiano un cervello che ragiona poco si alzano fanno il lavoro hanno dei figli ma forse non è più importante che li abbiano sì perché i figli nascono da un rapporto sessuale nascono però non sei più padre sei gender gender no roba da roba da non credere di quanto queste menti diaboliche che non hanno niente da pensare ma 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 soltanto quello di sfruttare i cittadini perché loro sono parassiti psicopatici che vivono di questo e allora noi dobbiamo correre ai ripari ma non per i nostri figli per i nostri nipoti e per i figli dei nostri nipoti ci sono quelli che magari ascoltandomi il filmato potrebbero dire che cazzo me ne frega me dei miei nipoti che cazzo me ne frega me dei miei figli si arrangiano come ci siamo arrangiati noi tutte queste frasi fatte che hanno fatto dell'italia ma non solamente del mondo perché questo è questo ignorare questo ignorare è universale e chi dirige il mondo lo sta facendo male perché la gente non è felice lo sta facendo male perché in tanti in tanti paesi ci sono le guerre ci sono le guerre perché questi producono le armi le armi producono profitto quindi organizzare una guerra equivale a dire far guadagnare dei soldi alle industrie belliche che vendono le armi intanto questi sono quelli che sono stati attenti che sono stati furbi e hanno tutte le postazioni noi possiamo andare contro gli eserciti questi comandano gli eserciti questi comandano i politici questi comandano comandano tutti comandano loro perché perché loro sono quelli che sono stati più attenti e hanno fatto quello che hanno voluto ora beh imbocchiamoci le maniche e iniziamo a dimostrare che quello che hanno fatto loro lo possiamo fare anche noi però con dei risultati diversi da loro noi siamo capaci noi siamo capaci di produrre una società dove la gente è felice perché la cosa più importante dopo la salute è la felicità tante volte io rimango senza parole e mi arrendo di fronte all'ignoranza perché l'ignoranza è veramente questo colosso è veramente questo colosso che fa il potere ed è ed è proprio la il sintomo del della distruzione dell'umanità perché l'umanità grazie a a cause derivanti dal 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 dalla tecnologia e e dalla inconsapevolezza e dal dal dall'abbattimento dei valori veri quelli che contano che fanno che rendono forte per questo che dicono gender perché le famiglie sono una forza e loro le famiglie le vogliono distruggere loro vogliono avere degli individui soli che vivono soli l'america è l'esempio l'america le famiglie ci sono i figli che che vivono insieme ma sono figli figli del padre figli della madre che 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 provengono da matrimoni diversi per loro è normale fare questo quindi si crea che cosa una società consumistica che invece di riunirsi intorno al tavolo e di di fare la famiglia e da quello e da quello deriva la felicità perché la felicità di quando ti sei comprato il telefonino di quando ti sei comprato sei sempre più povero anche se hai tutto perché la felicità gli umani sono fatti di sentimenti e forse questa la salvezza forse riusciamo ancora a salvarci perché non ancora non sono riusciti a modificarci i sentimenti a meno che non lo stiano cercando di fare con una scusa banale per iniettare nei corpi umani qualcosa che che poi a distanza può controllare i sentimenti quindi il funzionamento del cervello però e concludo perché sono stato anche abbastanza pesante so che tante persone non vorranno neppure ascoltare questo filmato perché hanno senz'altro qualcos'altro di meglio da fare ma se è così importante per loro ridurre 7 miliardi di persone perché questi siamo sulla terra se è così importante per loro ridurre 7 miliardi di persone e farli diventare dei robot con tutto quella macchinazione di modificare la scuola e di mettere le mascherine di il distanziamento quindi il compagno di banco è il nemico perché ti può trasmettere il virus cioè il tutto contro tutti che loro vogliono il caos no perché loro regnano e governano il nel caos perché se le cose vanno bene e l'ho già detto un'altra volta per loro non c'è spazio se le cose sono razionali per loro non c'è spazio volevo dire se e l'avevo già detto un'altra volta ma lo ripeto se a loro interessa così tanto avere 7 miliardi di robot che loro possono telecomandare con dei sensori con un cervello elettronico centrale perché cazzo non si costruiscono tanto li stampano loro i soldi perché non vi costruite 7 miliardi di robot la finite di rompere il cazzo alla gente 3